Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Mi aiuto Ora vediamo il checkpott oi hai scato 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 Zoomer slow lo... ...when not plays Minecraft. That's a big problem. What the fuck? What the fuck? Let's hit me here, let's hit me here! Tobo, quick! Place the heater on me, Tobo! Focus on the heater! Toby, Toby, the heater, no! Toby, the heater, you dick! I just came on, will you shut the fuck up? Will you eat? Oh my god! Oh, my God. Oh, my God. He doesn't want me to say where it is, Ryu, he wants to be f***ing. I wanted to vote Kitsy, brother. I'd let you find his art, what do you want? 4 mentions, I'd like to vote for something. I'd vote Kitsy, what's he's gonna do? Non c'est pas grave. Tu vas me up smash ? Tu vas me side B into cloche ? Aller, casse-toi de là. On va voir s'il aura un seul match de Kurama en stream la semaine prochaine celui-là. On va voir. On va voir. Il veut up smash avec tout. Il veut up smash avec tout. On va voir le frère. On va voir le frère. T'avais vu le truc en face au fait ? Et toi là ? Quel truc ? La machine. Bat chest. Game is frozen L.U.L. Niemals. Niemals. Ich würde es nicht mal mit Kevin in Seven Vs Wild aushalten. Ich würde es mit Kevin nicht eine Woche in einer WG aushalten. Bro, das wäre eine Challenge. Eine Woche. Sieben Tage. In einer WG. Eine geteilte Küche. Ein Streaming-Zimmer. Wobei, ein Streaming-Zimmer. Zwei Streaming-Zimmer. Und ein Bro Ritter. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe damit. Das glaube ich mir. Mar notice eine WG. Oooooooooooi! E' be', olli仮ano vantèè... Ne, noto! Olli仮ano vantèè... Olli仮ano vantèè yo!!! Naàààà!!! Non lo so, non lo so! Non lo so, non lo so! Ah, è il shift? Non lo so, non lo so! Non lo so, non lo so! Scusate caazai! Ebe, ebe, ebe. Et sù, inate! E? Sù, inate! NANDE DAAAA OAO . 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 Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, 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 Sì! Sì, Sì, Sì! C'è questo? C'è questo? Sì, ci sono. Mano